Ecco, adesso mi fanno vedere questa è la condotta al minzaglio. In pratica il cane non deve tirare, cioè deve stare composto. Perché avere cani che fanno scinautico per sei ore non è una bella cosa. Ecco, questo tipo di testamento che vedete stasera noi lo facciamo due volte settimana fino alla durata del cane.